Salve a tutti da Giusto Peregozzino, siamo qui con un prodotto di Cellular Line, parliamo di Krab XL, parliamo di un prodotto che vi costa una manciata di euro ed è utilizzabile, compatto, utilizzabile perché lo riuscite ad applicare alle alette, bocchette diciamo da reazione, alle alette che trovate in macchina. Con estrema semplicità adesso andiamo ad aprire la scatola, vediamo quindi cos'è contenuto all'interno della confezione che abbiamo appena mostrato, essendo in plastica prestate attenzione perché appunto la plastica rimane comunque sempre aggressiva nei confronti della coppia. Questo è il nostro prodottino, come vedete viene estratto con estrema semplicità e velocità dalla scatola, all'interno della scatola non vi è nient'altro, vediamo comunque adesso di darci un'occhiata per completizze. Vabbè, le istruzioni. Per quanto riguarda quindi il nostro prodottino, ve l'abbiamo mostrato, lo metteremo in funzione e vedremo un attimo come si comporta. Sia chiaro che a completamento comunque del tutto ci sono anche gli agganci appunto per le bocchette d'ariazione. Per quanto riguarda lo spacchettamento abbiamo concluso, ruota galleria fotografica dopodiché recensione. Vi ringrazio dell'attenzione e vi saluto. Vi invito a seguirci attraverso il sito web formopals.info e i relativi canali social che abbiamo attivato per voi. Siamo su Twitter, Facebook e YouTube dell'Emotion. Se ci seguite rimanete facilmente in contatto con noi e tempestivamente aggiornati su tutto quanto andremo a pubblichare per voi. Ora è tutto, un saluto, ci si vede all'anno presto da Giuseppe Ragazzino.